Alemanno, cittadone Roma e Roma, Alemanno, cittadone Roma Speriamo che questa città cambi meglio, molta fiducia in Alemanno perché mi sembra una persona molto seria, poi basta, 15 anni, 10 di Rutelli, 5 di Veltroni che non hanno assolutamente risolto nulla, anzi, quindi sono per la sicurezza, per l'ordine e viva e viva e vanno! Roma cambia e io voglio cambiare con Roma. Sono contenta perché finalmente penso che quando uno straniero sia fermato in città e non è in possesso dei requisiti giusti, se ne deve andare via. Voglio creare un nuovo clima di giustizia sociale. Ci sono alcune cose che hanno lasciato un sospeso, che noi cittadini siamo un po' meglio perché veramente siamo ridotti all'astrico, non riusciamo a andare avanti a fine mese e speriamo che tutto quello che ha promesso riesca a mantenere.